La nostra mission è chiara, progettare prodotti altamente efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili, riducendo al minimo l'impatto sull'utilizzo di materie prime. Ascol è una realtà imprenditoriale nata nel 1978 e si occupa di progettazione e sviluppo di motori elettrici. La divisione Appliance ha il suo headquarters in Ascol 3, a Vicenza, e qui che nascono e vengono sviluppati i prodotti per il mondo dell'elettrodomestico. I siti produttivi di Ascol Appliance sono dislocati in diverse aree geografiche, quali Europa, America e Asia. Siamo dunque una realtà globale, ma con un forte imprinting regionale. Recentemente abbiamo collaborato intensamente con l'ATI per un progetto all'interno del plant di Ascol Messico. L'ATI si è dimostrata un partner ideale, poiché offre una gamma di prodotti agli stati UL, requisito fondamentale per il mercato nordamericano, fornendoci anche supporto tecnico in loco presso i nostri stampatori di Ascol Messico per ottimizzare i processi di stampaggio. In linea per la nostra politica di sviluppo e di miglioramento, Ascol ha dedicato notevoli sforzi per introdurre nuove figure e giovani talenti all'interno dei reparti di qualità e ufficio tecnico. Anche qui l'ATI si è dimostrata un partner di grande valore, offrendo formazione specifica all'interno dei materiali plastici, arricchendo il nostro know-how aziendale. Condividere un successo significa necessariamente condividere anche delle competenze specifiche. È per questo motivo che l'ATI organizza presso i suoi clienti dei corsi tecnici specifici in cui si parla di materie plastiche, di compound tecnici, di applicazioni e di processo. La collaborazione fra l'ATI ed Ascol si è sviluppata nel corso degli anni attorno ad alcuni macro temi riguardanti materiali plastici impiegati soprattutto in ambito appliance. Parliamo di prodotti super strutturali rinforzati per la sostituzione del metallo, ai materiali autoestinguenti certificati, fino ad oggi ai prodotti autolubrificanti. Ora la sfida che ci attende è di implementare materiali plastici a ridotto impatto ambientale e derivanti da fonti riciclabili, coinvolgendo attivamente i nostri fornitori. L'ATI è già un partecipante attivo in questo importante progetto di Ascol, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel trovare soluzioni tecnicamente sostenibili e innovative. I materiali devono evolvere nella direzione di una maggiore sicurezza, ma anche di una riduzione dell'impronta di carbonio e una maggiore sostenibilità. È per questo motivo che l'ATI ha creato una gamma di prodotti da polimero riciclato che non solo valida dal punto di vista prestazionale, ma che certifica anche affinché il cliente possa essere soddisfatto delle sue prestazioni. Grazie.